Iniziative e provvedimenti per venire incontro anche attraverso forme di microcredito alle difficoltà delle famiglie indebitate, specie per mutui bancari, è quanto sollecita il consigliere regionale Mattia Pdl con un'interrogazione al presidente dell'Aggiunta De Filippo. Frequenza di indebitamento per mutui bancari maggiore è presso le famiglie con redditi più elevati. Quota di famiglie indebitate per mutui in Basilicata pari all'8,9% con un debito medio quasi raddoppiato rispetto al 2005. Rallentamento dei prestiti proseguito nella prima parte del 2012 e partendo dai dati dell'ultimo rapporto di Banca Italia sull'economia delle regioni che Mattia sottolinea la necessità di un pacchetto di iniziative da parte della regione in favore dei nuclei familiari. Esigenza avvalorata per il consigliere Pdl anche dal fatto che nel primo trimestre 2012 il 29,5% del reddito delle famiglie impiegato per l'affitto della propria abitazione.